Si chiude il cerchio sul caso di stupro avvenuto nel maggio del 2021 in un bed and breakfast del centro di Milano. I carabinieri hanno rintracciato e arrestato un giovane di origine gambiana già condannato dal tribunale insieme a un complice per violenza sessuale di gruppo. Nella primavera di due anni fa, secondo quanto emerso dal processo, i due avevano portato la vittima, appena quindicenne, in una stanza di un bed and breakfast in zona colonne di San Lorenzo. Con loro c'era una terza persona che si sarebbe subito allontanata. Rimasti soli con la ragazza, i due le avrebbero prima offerto dell'alcol per poi abusare di lei. Sarebbe stato il terzo uomo il primo ad accorgersi che era successo qualcosa, trovando al suo ritorno la quindicenne fortemente provata. La vittima aveva formalizzato la denuncia e si era arrivati al processo, concluso con due condanne a sei anni e a cinque anni e quattro mesi per i due giovani accusati dello stupro, identificati dai nominativi con cui avevano preso in affitto la stanza. Uno dei due era stato subito arrestato e ha già iniziato a scontare la sua pena. Dell'altro, fino a poche ore fa, non c'erano tracce. È stato trovato sul Lago Maggiore dai carabinieri di Cannobio. I militari lo hanno portato al carcere di Verbagna.